. Diane Kruger, in abito silver a Toronto, è sexy e single. . A Toronto, per l'International Film Festival, Diane Kruger c'è arrivata da sola. Al suo fianco, questa volta, non c'era Norman Raines, star di The Walking Dead a cui è legata dopo la sua separazione da Joshua Jackson. . . In abito argento dagli spacchi audaci, la bionda attrice ha conquistato tutti. E ha dimostrato quanto si può essere sexy, pur rimanendo chic. Era firmato Prabal Garung, l'abito argentato che Diane Kruger ha sfoggiato sul Red Carpet del Toronto International Film Festival. . . Abbinato ad una clutec lafshar nei toni del bronzo, e agli alti sandali alla schiava sexy e audaci, il vestito sottolineava il suo corpo sottile con coraggiosa raffinatezza, indossato rigorosamente senza reggiseno, metteva in mostra il suo addome super piatto e le gambe sottili. . . Facendo dell'attrice che lo scorso 15 luglio ha compiuto 41 anni una delle più belle donne ad aver preso parte alla kermesse. Ma, della Kruger, a Toronto non si è parlato solamente de lui. . . La stampa si aspettava infatti di vederla arrivare accompagnata dal suo nuovo amore, quel Norman Bredus che sta al suo fianco dopo la fine della lunga relazione con Joshua Jackson, noto ai più come il pace di Davson Screk, serie tv in cui viveva un'appassionata storia d'amore con Joey Potter Katia Olmese. . . Norman, 48enne attore americano, è dal 2010 nel cast di The Walking Dead, la cui nuova stagione inizierà il prossimo ottobre. E, con Diane, vive una storia lontano dai riflettori. . 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